ciao ragazzi bentornati sul canale come va comunque come va bene 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 hanno bene bene ok allora con questo video facciamo due comunicazioni partiamo con una prima comunicazione allora se avete visto il video di come era in titolo stop alle presi in giro no no alle presi in giro bene ci sarà il seguito ovvio che si intitolerà stop al bullismo ok voi direte perché l'hanno detto perché sto video perché ragazzi perché abbiamo bisogno di voi allora abbiamo letto tanti commenti che molti sono state vittime di bullismo e è una brutta cosa quindi è anche difficile da parlarne perché a volte non si sa cosa dire a volte abbiamo paura di sbagliare a parlare perché sono cose molto delicate vanno prese con delicatezza detto questo chiediamo a voi di mandarci un commento sotto il video dettato dal vostro cuore aprite il vostro cuore e fate una frase contro il bullismo ve la firmate con il vostro nome con il nostro vostro nickname col vostro nome del canale insomma come volete voi una bella frase scritta sotto a questo video noi poi in nella puntata che domani è mercoledì giovedì 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 7 giovedì 7 giovedì 7 giovedì 7 è sicura no domani mercoledì 7 vabbè dai giovedì questo giovedì questo giovedì andrà in onda la puntata quindi avete tempo fino tutto domani per scriverla e giovedì mattina e buon basta da dove è andata ma nicole ma insomma sei anche la diciamo è successo a testo fatto quindi sei nel video e vai via e no è che e mi avevo sotto il piede un croccantino e mi dava fastidio e l'ho lanciato via un croccantino sì un croccantino poi c'è 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 il gatto che ha fatto la tappa e puzza sì ma sono cose da dire ma stiamo riprendendo ma ma non si parla ma non si parla di cacca ma scusami puzza di cacca ma non so ma scusate ragazzi ancora se ne va ma insomma nicole ma cosa fa ma cosa fa la sedia comunque ragazzi mi raccomando questo video è molto è finito che cosa di disturbare sì oggi ho preso anche mezzo brava allora mi raccomando ragazzi questo video è molto importante è molto significativo ed è contro il bullismo mandate tanti vostri commenti tanti vostri messaggi di dettati dal vostro cuore per una campagna contro il ma non in campagna per una campagna la ma cosa vuoi dire ma non è vero contro il bullismo ragazzi mi raccomando vi aspetto in tanti eh ragazzi ti so coprendo eh no c'è la tua faccia grande davanti perché io ho una facciona non vedete comunque ragazzi ok detto questo e no 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 non si viene no stiamo riprendendo scusa 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 scusatemi scusatemi eh per favore cosa sta succedendo sono venuta a prendere un sacco tirati sulle mutande ma insomma cosa ci sono le telecamere dove dove hai messo le telecamere in casa lo sapevo io lo sapevo vai vai insomma scusate ragazzi copro io fai quello che devi fare muoviti copriti tirati sulle mutande lo faccio più o meno ma ma che mutande ma che vergogna ma che vergogna ragazzi ma stiamo riprendendo ma non la vedi la telecamera dopo mi cucina mutande perché si strappata ma dobbiamo allora quella parla di cacca tu parli di mutande bucate ma insomma sto video ma non lo so io io non ho detto niente ho solo detto che aveva fatto la cacca il gatto comunque hai visto federica eh hai visto federica federica si federica era giù eh me la chiami per favore ma perché è uno ma perché federica senti ma ma guarda federica ti vuole gioco dov'è sono qua ma non mi vedi c'è pure un flash no no è riccardo dov'è perché urla perché ti voglio io allora ho fatto una comunicazione prima c'era e adesso ci devi essere tu nella ma mi fate il papponare comunque stasera sai cosa inizia lo so lo so cioè voglio dire ma sei fuori pure tu vado a fare i compiti ecco ciao ciao buoni compiti ragazza bella vabbè comunque stasera cosa inizia al tre lo diciamo sì i 1 i 2 i 3 1 2 3 inizia do race stavo dicendo no no stavo dicendo dollissima perché qua con tutti i programmi che fanno su facebook in papino ma è il do race perché dollissima è già e già c'è già ragazzi comunque stasera inizia su i love fashionistas sì 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 inizia il do race con ruth paul sì 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 scusa vi siete iscritti a facebook dobbiamo metterlo sulla televisione sì un attimo vi siete iscritti a facebook chi non può iscriversi a facebook si iscrive alla pagina di barbie e orso non lo so io cosa aspettate iscrivervi ah guarda che tengo d'occhio eh aspetta un attimo aspetta sto parlando tengo d'occhio tengo d'occhio le iscrizioni eh le guardo pure io le conto eh voglio vedere quanti di voi si scrivono eh se mi volete bene iscrivete dai lo mettiamo sulla televisione vero sì comunque speriamo che non arrivano quei due là perché guarda fammi finire subito il video ma dove è andata ma dove è andata ma non andate a prepararmi ma cosa a prepararti ma non la ma stasera dobbiamo rimanere a casa lo so lo so ma guarda non è arrivato comunque amici eh sì eh c'è 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 cosa c'è tesoro c'è cosa c'è tesoro eh 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 ok eh tu flash flashante eh dentro casa sto facendo sto facendo la ripresa un messaggio un messaggio è il torcicollo amore 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 ah ok si è sistemato sto facendo una ripresa si è un annuncio che stasera inizia il doll race inizia il doll race è un annuncio per no è un annuncio per il bullismo vabbè roba roba che tu non puoi capire per quelle foto? no si dai non fai geloso no stasera le guardo si ma non sono foto così dai non mi interessa ti guarderò ti mettono il like alle foto no no ragazzi è vero senti io non ho più un telefono il mio telefono si è rotto nell'incidente e non ho più un telefono non faccio più live su instagram non posto più foto su instagram non posto più story su instagram facciamo un hashtag hashtag la colletta hashtag una colletta per diego sto scherzando cosa fai balli? no faccio vabbè comunque stasera vediamo tutti dal race vero? lo guardi anche tu amore mio? si ma con questo perché? perché vado a picchiare le genti le genti le genti? lui le va a picchiare ti mettono il like oh no senti ascolta ciccio bello qui bisogna votare non è che non ascoltatelo per favore non ascoltatelo questo imbranato imbecille che non mi fa posso mettere solo io il like? no 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 ascolta ciccio ciccio paciccio ecco se piace la foto devono mettermi il like al massimo Stefano e Riccardo vabbè Riccardo tuo fratello che retrogado ma che cosa dici? siamo negli anni 30 ancora ma cosa dici? senti la prossimo anno allora facciamo partecipare tua mamma al door race va bene la cacciano su root ball mi raccomando cacci la signora pisellino non la faccia neanche entrare neanche entrare nelle foto ma ancora in mutande sei? ma chi è? ma io non ce la posso fare e chi è secondo te? e chi è? posso essere un fantasma? Sara? Sara secondo te sono Sara? non mettere ancora in metto mamma mia perché c'è ancora? no hai fatto ancora la tavola uija no 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 ma stai scherzando l'hai fatta te l'hai fatta te quindi adesso io la tavola uija io faccio vedere una cosa tesoro tesoro vado da Federica tesoro 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 allora adesso mi devi fare un po' di di propria allora devi farmi un po' di propaganda cos'è sta tu cacca allora no tu devi dire tu devi dire che mi devono seguire perché se no io faccio la tavola uija ancora oh oh che sta da fa? niente Sara Sara Stefano copriamo scusate ma che cosa ho visto Stefano oh mi è suggerito tirati sui pantaloni aspettate e vabbè maronna mia sono dimagrido oddio sei ingrassato non si allacciano più i pantaloni ma guardate ma cos'è Riccardo col popò dei fori Stefano oh no mi spieghi che succede dillo tu mi hanno detto di non vi votare oh che sta a dire è vero posso mettere solo io like le foto neanche te no vabbè te posso dire io un annuncio o posso fare io mi prude il naso vai 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 ragazzi non mi prude più il naso ragazzi non è normale oh ragazzi sono qua dietro non mi fate passare avanti eccome allora ragazzi mi raccomando fatelo per me no statti zitto Sara dov'è Sara oh e allora stai zitto mettila stava la Ouija oh state zitti allora metti dislike tutte le tue foto oh state tutte zitti mi raccomando ragazzi io me lo seguo il Dorrese perché è bello partecipi pure a tu ma è solo donzelle che io so donzelle e per i maschi e per i maschi devi fare comunicazione devi mandare un'email a Ruth Paul chiocciola a Ruth Paul ma io voglio partecipare eh devi chiedere a Ruth Paul qui io non so non so io Ruth oh voglio partecipare spostati ma questo era il mio annuncio ma guarda te tu non l'annunci più annuncio voglio partecipare al Dorrese per fare le foto ok ti prenderò perché sono bello ah ma guarda te em Stefano io ho il piede di legno oh spostate devo fare l'annuncio dai ti annuncio pure io dai 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 ah ok oh ragazzi ho il mal di mare per prima cosa allora per prima cosa per prima cosa stasera guardatevi il Dorrese su I love fashionistas non finiremo più di dirvelo se non Dorrese e basta stavo fattifando e se non avete Facebook ma che Facebook vabbè state zitto io parlo la mia lingua potete iscrivervi al canale di Barbie e Orso ma che vuole questo Barbie e Orso che lì metterà tutte le puntate del tosto tosto posto posto metterà tutte le puntate mi raccomando postati Riccardo mi raccomando ragazzi su Stefano e se fatelo per me posso fare una domanda che vuole lei ma che pizza con queste domande inopportune ma se partecipiamo anche noi ma dove vuoi andare tu con il naso no l'ho chiesto io prima ma dove vuoi andare ma per favore no voglio partecipare io guarda come sono bello si dolls dei nasi doll naso doll naso si certo un bel dolls doll naso lì potresti partecipare con molto piacere ma che fa questo ma che è matto comunque ragazzi io vi saluto mi raccomando riprendete mettete like al video normalmente poi andate subito sulla pagina di Barbie e Orso di Youtube sul canale no pagina madonna è stata fanta sconfondere sul canale di Barbie e Orso e mettete iscrivetevi e mettete la campanella attiva così vedrete tutte le puntate che pubblica e voi potete godervele comodamente seduti sul vostro divano sul sdraiato sul vostro letto ma io non lo so che brutta visione cosa che cosa ma io non lo so io non lo so scusate va bene amici con questo video è tutto spostati Riccardo sta finendo il video spostati vattene con questo video è tutto con questo video è tutto e voglio fare con questo video è tutto e con questo video è tutto e con questo video è tutto e con questo video è tutto non mi sposterai non puoi farvi con questo video è tutto con questo video è tutto ci vediamo stasera al Don Reyes ci vediamo stasera al Don Reyes perché puoi iscriversi a Facebook se no comunque andate nel canale di non si può iscrivere a Facebook si iscriva su Barbie e Orso su YouTube non sei niente ignorante oh io ignorante capra comunque amici un bacione sei una capra 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 ci vediamo stasera col Don Reyes che parteciperò anche io parteciperò io al posto tuo no non ci pensare perché sono bello guarda ti faccio buttare fuori ho le sapelle no vai via chiedo chiedo un aiuto chiedo un aiuto da casa no chiedo io un aiuto da casa perché voglio partecipare votiamo votiamo ma che voti ma cosa voti ma cosa voti ma vai via ma vai via ma vai via votate Diego ma vai via Diego ciao amici ciao votate Diego